Musica Musica Uok производich É um pega de volta, mas eu vou mostrar mais um jogo, jogo de lotação na Arena hoje Tamo ai com o Bastion, fala ai meu irmão É Cruzada, hoje, é Gremer 2x0... E vai 50 mil na Arena hoje, né Hoje vai Lorde? 150 mil? Hoje vai, nós96. Vai a gente vai apparently apoiar o Gremer Pronto, il tuo placare oggi? 2 a 0 per il Grêmio, 2 gols di Gianni Sousa 2 per il primo tempo Poi, sta malezza! Ah, che vale! Qual è il palpite per oggi? Il palpite è 1 a 0 Il palpite è 1 a 0 È un palpite è molto difficile E spero che la nostra energetica La vittoria è importante, non? Non è un palpite Primavera la gioca iniziare Il palpite è un palpite, non? Il palpite è un palpite Il palpite è un palpite Che cosa è il palpite? Occhi è il palpite, 2 a 0 2 gols di Gianni Sousa E 50 mil in arena oggi Occhi è 1,50 mil? Occhi è il palpite! Il palpite è il palpite Il palpite è il palpite 2 a 0 per il Grêmio 2 gols di Gianni Sousa Voi guardare il palpite Il palpite è il palpite Occhi è 1 a 0 Il palpite è un palpite è 1 a 0 Il palpite è un palpite è un palpite È un palpite è un palpite Occhi è un palpite Lo che è un lìber L'ultimo è un palpite Ma vediamo che la nostra energetica regra svolge La vittoria è un palpite Il palpite è 1 a 0 Occhi è un palpite è un palpite Vora no L lang Tutto il Grêmio, tutto il Grêmio Quanto è oggi, Luan? Oggi sarà 3 a 1 per noi E il Diogo Sousa Il Diogo Sousa sarà guardare una testa in gelato Oh, siamo tutti, Luan E' noi, Luan E' noi, Luan E' noi, Guzzada Il gioco di quanto? 3 a 0 E' noi E' noi E' di volta Il sè paul dico 3 a 0 A natural Alta il aiuto E' l'unico 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 D'unico Parabensi, Roger Machina al Mirzi E' l'unico con il gol di Diego Souza allora fare qualcosa fare qualcosa il nome di oggi tu è e il palpite per il gioco di oggi sono Erick di Campobom oggi darà 2 a 0 pro Grêmio 2 gol di Diego Souza questo è il mio il nostro fintore vai ganare questa notte per noi che gioia per la scuola hai pensato ho chiaro e adattare il nostro fintore è il nostro fintore il nostro fintore è il mio il nostro fintore non savara perché è il mio paragriere siamo alti sì siamo un mio gioia vai Grazie 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 Vamo pra cima, Roger Porra 17 minutos, tem muito de jogo pra frente Tem muito de jogo pra frente Passa o caralho Vai tomar no duro que eu passo Vai tomar no caralho Ô, Rogério, aproveita pra mexer nesse time O Roger! O Roger, vamo a porta, Roger! Vamo fare il giocatore, Roger! Vamo reagire, il time! Vamo reagire, il time! Idali, daligrenio! Idali, daligrenio! Idali, daligrenio! 44 minutos do gioco, o gioco ficou muito pesado. Ficou uma confusão ali no setor da arquibancada. Il gioco parò, parò per 15 minuti? 15 minuti Penso che c'è un accrescimo di 10-15 minuti Il gioco è perdita, ovviamente Il gioco parò E, cara, vediamo che il giurista colocare la suma Perché è molto probabilmente che il gioco sia punito per causa della paralizzazione del gioco Dessa confusione che ha avuto con la bancada Qual è il gioco di questo, Filippo? Cara, credo che i che stavano brigando tutti stavano brigando non torciam per il Grêmio, non sono grimmisti è questo Il gioco a dire Il gioco a dire la confusione nel bancada Norte Precisiamo di paz, Bilisada è tutto il grimmista l'unica proposta che ci sono è il Grêmio Chega di grigia, che di violenza e ora precisiamo reagire Perchiamo anche questa partita Ci siamo insieme Vai imparare? L'unico Il gioco quelle Il gioco è il gioco È un gioco Musica Ficamente ma non so come stia fisicamente, è complicato il pedito, ma lo sape di questo Diego Sousa! Diego Sousa è foda! Oggi operare di X pro Diego Sousa! Vamo neuuu! Vamo girare i giocatori! Vamo! Vamo girare i giocatori! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!